Si è svolto ieri sera all'interno dell'oratorio Casa Bethlehem l'incontro organizzato tra Terna e Comune insieme ai residenti di Carrara per presentare gli esiti della seconda campagna di rilevazione acustica e dei futuri interventi di riduzione del rumore della stazione elettrica. Alla riunione presenti oltre al sindaco di Fano anche un tecnico del Cesi, centro elettrotecnico sperimentale italiano che su richiesta di Terna ha eseguito delle misurazioni sonore. Alessandro che cosa ha emerso ieri sera dai dati presentati? È emerso che ci sono dei superamenti dei limiti di legge, in particolar modo nelle case più vicine alla centrale, in particolar modo durante le ore notturne. Quindi i tecnici di Terna hanno individuato alcune fonti di questo rumore e in particolar modo l'impianto compensatore sincrono di recente realizzazione e tre trasformatori della stazione elettrica degli anni 80 che nel corso di questi anni è stata successivamente ampliata. E sono stati presentati anche degli interventi, quali sono? Per quanto riguarda gli interventi a breve termine è stato predisposto lo spegnimento dell'impianto compensatore sincrono durante le ore notturne fino alla fine dell'anno su sollecitazione del sindaco. Invece per quanto riguarda gli interventi a medio termine è prevista la sostituzione dei trasformatori e l'installazione di pannelli fonoassorbenti. Logicamente questi interventi richiederanno determinate tempistiche e l'approvazione da parte del comune, del genio civile e di ARPAM. L'installazione dei pannelli fonoassorbenti è in fase di progettazione e verrà realizzata presumibilmente nei primi mesi dell'anno prossimo. Per quanto riguarda la sostituzione dei trasformatori il primo macchinario già pronto al porto di Ancona verrà installato nella centrale di Carrara entro la metà di agosto mentre il secondo e il terzo verranno rimpiazzati uno nel mese di ottobre e l'altro entro la fine dell'anno. Nel corso degli interventi Terna organizzerà degli ulteriori incontri insieme ai residenti per aggiornarli sullo stato di avanzamento dei lavori. Terna ha stabilito che riporterà i livelli acustici entro i limiti di legge e si impegnerà a far sì che questi livelli acustici torneranno ad essere come quelli precedenti all'installazione dell'impianto compensatore sincrono. Voi residenti come valutate questo incontro? Sicuramente è stato un primo passo significativo nei confronti dei residenti di Carrara e sono state accolte le nostre richieste di intervento per quanto riguarda i livelli acustici che erano molto elevati.